Ha vissuto 10 anni di terrore. A certificarlo sono stati giudici della Corte d'Appello. L'uomo, già condannato a risarcimento, ora sarà costretto a pagare 50.000 euro alla sua ex moglie. Secondo l'ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione, il giudice civile può utilizzare le prove raccolte in quello penale con verdetto definitivo in base al principio più probabile che non. Diventa definitiva dunque la condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Lecce. La donna, vittima del reato di lesione personale, dovrà essere risarcita. Investito dalla domanda di risarcimento del danno da reato, il giudice civile dunque può legittimamente utilizzare le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato. Il magistrato in questione deve procedere con pienezza di cognizione così da accertare i fatti materiali all'esito del proprio vaglio critico. Per l'avvocato Giovanni Dagata, presidente dello sportello dei diritti, il motivo è fondato in quanto il giudizio risarcitorio civile verte sul nesso causale fra la condotta illecita e il danno. Vale dunque la diversa regola probatoria del più probabile che non. E l'evidente gravità delle condotte dell'uomo consentono di presumere la notevolissima sofferenza morale, oltre che fisica, della donna che in una lirte riporta la frattura del setto nasale. Insomma, i dieci anni di terrore non sono frutto dell'inventiva del Tribunale, ma un'immagine icastica e dunque essenziale del lunghissimo periodo di condotte delituose dell'uomo.